bella a tutti ragazzi qui Gandalf e Gimli siamo ancora qui di Talbatrox sempre qui cosa che mangia la caramella comunque si parte ragazzi siamo qui con questo video è una mia mob si non lamentatevi sei sempre una mob con l'armi overpower anche se è la prima volta che lo porto bella a tutti ragazzi va bene va bene ragazzi questa è una mob con la GR con la GR silenziate i caricatori aumentati comunque farò una mob cercherò di prendere la seconda ma non ci riuscirò perché non lo so perché mi hanno ucciso in questa partita ero con Ricky Pasqua un nerd di merda ragazzi insultatelo tra i commenti dai poverino no ok no poverino insultatelo di più no comunque ragazzi ero anche con Gimli che mi ha supportato appunto per prendere questa mob e niente lasciamo a Legolas la parola vai vai bella allora questa questa mob non mai vista è una bella mob combattuta 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 fino alla fine mezza ragazzo vieni su facebook vieni su facebook intmiccio vieni su facebook vabbè vabbè ragazzi no ragazzi allora comunque stavamo dicendo vabbè no basta basta no no stavamo dicendo allora io entro su facebook intanto come si chiama marco cazzo stiamo commentando lo so però fa niente allora ragazzi questa è una questa no vai su come si chiama la mob? questa è una mob su come si chiama? Aftermath 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 Ah Interchange allora vaffanculo Interchange Interchange ci conquistata mi ero ricordato una cosa e me l'hai fatta scordare ma ragazzi il più esperto è legola stra di noi perchè è l'unico che aveva il gioco infatti è sua la mob si si è tutta mia no no quelli che hanno giocato con noi possono dire che non sono così male anche i dolandesi no è vero è vero quindi no è vero non è non sei male poi quando sono capitati quelli un po' più forti quando sono capitati quelli un po' più forti siamo andati sotto no quittiamo ovvero un 1v ragazzi no allora ragazzi comunque abbiamo cercato di variare un po' il gioco no 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 basta allora abbiamo cercato di variare un po' il gioco perchè forse gli cioè Black Ops 2 forse annoiava un po' forse no questo qua è Mv3 ma anche questo annoia soltanto di Black Ops 2 e vabbè lo so vabbè dobbiamo portare andiamo a casa di Legolas cerchiamo di fare un po' di live perchè ora siamo a casa di basta Call of Duty faremo live di qualche gioco cioè se mettiamo questo video prima di quali giochi abbiamo questi giochi allora Metro quello nuovo 2033 vabbè UFC quello di botte botte poi quello dell'intestino quello dell'intestino tene poi si chiama Surgeon Simulator Surgeon Simulator ma ma Mario quello lì come si chiama quello che fa incazzare Mario Brosted Lori Mario Brosted Lori Mario Brosted Lori poi vabbè diteci qualche gioco voi tanto no noi lo faremo basta veramente basta ma lo facciamo due perchè non è che i gameplay ci stanno esaurendo perchè abbiamo un bordello però vogliamo un po' cambiare perchè noi lo sappiamo sappiamo almeno cosa dire di più negli altri giochi si perchè qua praticamente abbiamo finito tutti gli argomenti solo qua tanto basta che gridiamo poi va bene vabbè non a tutti piace però no infatti mezza la maggior parte a qualcuno non piace va bene se qualcuno vuoi anche desescrivers ma non d'ermai che la vassurda no ma se non vi piace cioè potete anche non mettere non mi piace ma cambiate canale non so fate quel cazzo che volete venga non dirmi non c'è bisogno di di insultare ma non dirmi che due boi non fanno una vacca ma non dirmi che un intestino tenue fa un porcello selvaggia mangiare formaggio cazzo volante e merda per terra ma non ditemi che Sorge Simulator ah si ragazzi volevo fare volevo fare come cosa si dice un un prospetto no un piccolo contest un prospetto un piccolo contest che cazzo di contest un contest su una battuta cioè su no 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 chi indovina vince allora chi indovina vince no 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 si e lo nominiamo nel prossimo video allora ragazzi un cavallo va un cavallo come cazzo si dice e tra questi non valgono i compagni di scuola perchè lo stanno già e chi non va e neanche rabbiosi chi sarebbe il mago ok comunque partiamo allora c'è un cavallo che va va in una gelateria e ordina un gelato alla panna non c'è l'ordine al crema eh torna a casa e cosa trova sul tavolo ragazzi chi chi risponde giusto vince vince di essere nominato nel prossimo video ah beh comunque qua la mob è arrivata un saluto dagli talbatrox aspetta falla scoppiare no io non la lancio fino alla fine non è falla scoppiare allora che ah su serio si non la lancio fino alla fine guardate qua che si cerca di far ammazzare eh vabbè andavo per la seconda Bob comunque ragazzi la quale partita è finita un saluto dagli talbatrox qui Gandalf Legolas e Gimli beh allora ragazzi cercate di rispondere alla domanda beh ragazzi se volete beh